Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi continuiamo con le novità 2023, parliamo della Honda, perché Honda, dopo che ha presentato la sua Hornet 750, ha presentato anche poche ore fa le nuove 650, quindi la CB650R, la Naked e anche la CBR650R. Oggi parliamo della Naked, parliamo della CB650R, un modello che già vi anticipo rimane praticamente identico alla versione 2022, ma hanno modificato una delle quattro colorazioni disponibili. Per quanto riguarda Honda, vi dirò la verità, mi ha un po' sorpreso questa scelta di mantenere in gamma sia la nuova Hornet 750 che la nuova CB650R, quindi mantenere entrambe le due moto, perché a regola, in teoria, essendo due moto facenti parte del segmento quel limbo tra Entry Level e Naked Media, non pensavo che, diciamo, Honda si facesse concorrenza interna, perché le due moto, sì, Hornet e la CB, hanno motori diversi, uno è un 7,55 2 cilindri, l'altro un 6,50 4 cilindri, però per potenza, coppia e tipologia sono due moto dello stesso segmento, quindi fondamentalmente Honda si fa concorrenza interna. Ovviamente una moto ha dei pregi, l'altra ne ha altri, la Hornet sicuramente ha un motore più grosso della CB, questo vuol dire anche più coppia, più divertimento, più spinta ai passi, essendo due cilindri, una strumentazione più bella, una moto più fresca, più giovanile, mentre la CB ha un motore al contrario, 4 cilindri, con più potenza rispetto alla Hornet, ma meno coppia, però sicuramente più a lungo e più, diciamo, un sound più coinvolgente e anche una sensazione di potenza maggiore quando si superano gli 8.000 giri circa, che è quella fascia laddove i 4 cilindri iniziano a spingere i 4 cilindri medi tipo 6,50 o 6,100. Quindi ecco, se vi chiedete quale scegliere tra le due moto, CB650R e la Hornet, sappiate che fanno parte comunque dello stesso segmento, cioè non è che la Hornet è naked media come una Z900 o 890 Duke, né tantomeno lo è neanche la CB650R, e fanno entrambe parte di questo stesso segmento, un gradino sopra l'entry level tipo MT07 o SW650 e Honda ha preso questa scelta di mantenere entrambe le moto. Io sono contento comunque sia perché la Hornet sia un motore secondo me migliore, più divertente, anche se comunque il nome Hornet, due cilindri, quello che volete, discorsi che io vi ho fatto, però non è molto bella, perché di fatto come design hanno preso la CB500F e l'hanno fatta in versione più grossa e a me onestamente non piace per niente, al contrario la CB650R è molto molto bella, soprattutto con questa nuova livrea 2023 che è uguale alla versione W22, però l'hanno ancora migliorata, adesso è tutta nera ed è veramente bellissima. Poi motore 4 cilindri, un prezzo che sarà più o meno lo stesso della Hornet, quindi sono contento comunque che rimangano entrambe le due moto. Però vi dovessi dire quale prendere tra Hornet e CB650R, vi dico a parità più o meno di potenza e più o meno anche tra virgolette di coppia, anche se comunque l'Hornet ne ha di più, dipende che motori amate guidare, se volete due cilindri con la spinta ai bassi o quattro cilindri con il sound e la spinta agli altri. Chiusa questa parentesi, adesso vi mostro un po' la CB650R nuova, qui di fianco vi lascio un'immagine. Allora, l'anno scorso c'erano ben quattro diverse colorazioni, il prossimo anno soltanto una, che è quella che vedete qui di fianco, è quella chiamata Matte Gunpowder Black Metallic. Fondamentalmente il nome è lo stesso della livrea 2022 con la nera, ma hanno cambiato la parte laterale anteriore, non c'è più quella zona bianca barra grigio, chiaro, ma adesso la moto è tutta nera ed è veramente molto bella. Cioè, onestamente vi dico, un leggero cambiamento rispetto alla versione 2022, ma la moto, secondo me, ha veramente cambiato faccia. Cioè, lo stile è sempre lo stesso, fa rotondo, stile neocaffè, ma tutta nera così, ragazzi, è veramente cattivissima. Quindi, bellissima moto, soltanto una livrea per il prossimo anno. Come caratteristiche, la moto è identica alla versione 2022, non cambia nulla. Si può avere sempre in versione potenza piena, oppure anche la versione patente A2. Una moto che io vi consiglio per patente A2, sia di potenza e poi sia di potenza, in quanto io ho provato due o tre anni fa la CBR 650R e mi era molto piaciuta. Come caratteristiche tecniche dicevo che il motore è sempre lo stesso, quindi un motore, quattro cilindri, cilindrata a 649, 650, potenza a 95 cavalli a 12.000 giri, mentre la coppia 63 Nm a 9.500 giri, mentre la moto pesa in marcia a 202 kg circa, altezza sella 810 mm, serbatoio 15.4 litri. Potenza coppia è più potente leggermente della Hornet, ma il motore è più piccolo e ha quindi circa un 10 pass al Nm meno di coppia. Quindi a livello di performance, per esempio, mettiamo in un misto stretto, sicuramente la Hornet è più avvantaggiata. Poi quando c'è un allungo, la CB entrando in coppia, sicuramente riesce a dare comunque molto filo da torcere alla Hornet, però vi dico, in un misto stretto, dietro alle due moto prenderei onestamente la Hornet, perché secondo me è un motore più divertente. Come ciclistica abbiamo sempre la Forcella 6 rovesciati da 40 mm della Shoah, SFF Big Piston, liberato frenante, doppio disco all'anteriore, 310 mm, con pinza a 4 pistoncine, a posteriore singolo disco da 240 mm, gommata 120 mm, a posteriore 180 mm, ABS presente, a doppio canale. Strumentazione purtroppo è sempre la stessa, potevano magari mettere quella nuova della Hornet, la Hornet monta il bellissimo schermo TFT da 5 pollici, con connessione Bluetooth, che secondo me è lo stesso della CB1000R, però hanno mantenuto la strumentazione vecchia, tra virgolette, LCT, comunque sia, la moto monta sempre anche il traction control. Prezzi ragazzi, la versione di U22 come prezzi partiva da 8.190 euro circa, 8.200 euro circa, il prezzo di questa versione nuova al momento, siamo ancora a mercoledì pomeriggio, non è ancora arrivato, non sappiamo quanto costa, c'è un asterisco al posto del prezzo, penso che rimarrà sempre lo stesso, se Honda fa come ha fatto per l'Africa Twin, forse un 100 euro in più, un 200 euro in più, quindi magari potrebbe costare, la dico, la butto lì magari un 8.300, 8.400, e comunque sì, sarebbe un prezzo molto interessante ragazzi, la potenza, basta e avanza per divertirsi, non è troppo esuberante, anche per chi è poco esperto, va vista in ottica, concorrente della, proprio della, o Trident, della Triumph, se vogliamo, pure proprio della Hornet, però tra le due moto, vi dico, è difficile scegliere, cioè, per motore, forse andrei sulla Hornet, io, perché ha più coppia, due cilindri, più divertente, in un misto stretto, però, per design, la CB è veramente bellissima, cioè, io avrei veramente voluto, vedere questo da parte di Honda, per il prossimo anno, togliere la CB 650R, dal listino, mettere la Hornet, nuova, con il design, un po' rivisto, della CB 650R, no? Rivisto, per riprendere, magari, lo stile, della prima Hornet, del 98, mettiamo una Maxi Hornet, come design, con il motore nuovo, anche se vogliamo, due cilindri, secondo me, veniva veramente, uno spettacolo, quindi, togliere, comunque, la CB 650R, e lasciare la, mettere una Hornet, un po' più cattiva, rispetto a quello che è arrivata, oppure, al massimo, tenere la CB 650R, come, tra virgolette, entry level, se vogliamo, e una Hornet, più grossa, però, non due moto, di categoria simile, ma, due moto, che andassero a coprire, due fasce differenti, era bello, ragazzi, se arrivava una Hornet, per fare concorrenza, alla Z900, Street Triple RS, 890 Duke, F900R, se vogliamo, quelle moto lì, no? Invece, comunque, sia, ragazzi, discorso CB 650R, avendo provato la CBR, secondo me, è una moto, veramente, molto, molto bella, rapporto qualità-prezzo, è una bella moto, forse era, sei rovesciati, diciamo, un buon motore, comunque, qualità Honda, secondo me, è un ottimo prezzo, consigliatissima da parte mia, anche per patenti a due. Nei commenti, se possedete, o avete posseduto, questa moto, la CB 150R, magari, versione anche precedente, un 2021, 2022, magari, nei commenti, scrivete, insomma, come vi siete trovati, se vi è piaciuta, non vi è piaciuta, pregi di difetti, così, come al solito, può essere utile, il vostro commento, magari, per chi è in cerca, di una moto nuova, e magari, vuole comprarsi, questa CB 650R, 2022, da parte mia, vi ricordo, che attualmente, sono in vacanza, in Sicilia, Siracusa, poi vi porterò, magari, nei prossimi giorni, dei video, in giro, insomma, per la spiaggia, e, vi porterò, poi, anche un video, sulla nuova, CBR 650R, da questo, intanto, è tutto, vedete un like, se vi è piaciuto, iscrivetevi, una seconda di dubbi, con l'instagram, e in e-back, ero ufficiale, noi ci vediamo, come sempre, in un prossimo video, ciao!